Scena della seduta spiritica era una scena isterica, perché praticamente avevano radunato un po' tutti questi personaggi veneti della zona e niente, la scena poi l'avete vista nel film, perciò provata, riprovata, abbiamo fatto tutta la notte mi ricordo per girare quella, fino all'alba, perché era una scena talmente fuori dalle righe, fuori dal normale, una scena incredibile, dove tutti noi attori dovevamo crederci, è quello che diceva Peter, credeteci, questo è importante, e allora niente, mi ricordo che poi si doveva fare in modo che il tavolo si doveva alzare, battere, adesso non mi ricordo, qualche d'uno da sotto che cercava di fare questo, qualche d'uno della truppa, degli operai che lavoravano.